Sì, come sono molto sudato, avrei voglia di farmi una bella donna adesso. Forse uno shampoo andrebbe bene, batti, no? Ma io direi che quasi quasi il caso, anche perché non c'è una parola di granchia in sé. Una brutta giornata, chiuso in casa a pensare, una vita sfrecata, non ho niente da fare, non c'è via di scampo, boh, quasi quasi, mi faccio uno shampoo. Un shampoo, un shampoo, una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa avattata, non c'ho neanche una gola, non c'è via di scampo, devo farmi per forza un bello shampoo. E scende l'acqua, scroscia l'acqua, calda, fredda, calda, giusta. E shampoo rosso e giallo, quale marca mi va meglio? E... questa. E schiuma. Soffice, morbida, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra nede, nede, nede. La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco. E se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, seconda passata. E son convinto che sia meglio quello giallo senza un canforo. I migliori sono più cari perché sono anti-forfora, forfora, forfora. E schiuma. Soffice, morbida, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve, e neve, e neve. La schiuma è una cosa sacra. E' una cascata di latte che assofisce questa voglia tipica italiana. E' una cascata di latte. La schiuma è una cosa sacra. Come i gelati dell'oasi. Sacqua, sacqua, sacqua. Voi. Grazie.